Johnny, Johnny, Johnny Dick, grande attore, famoso in tutto il mondo, ora sta in tribunale perché ha querelato il giornale inglese The Sun, il sole, perché The Sun ha scritto che lui, lui, questo grande attore, è un pintatore di donne e lui non ci sta, lui non ci sta, vedete, questa è la paginata del cuore della sera, questa è la sua mogliettina, vedete che roba, vedete, vedete che roba, vedete la sera, guardate che paginata, lui non ci sta, ma io quante volte devo dirlo, quante volte devo dirlo, quante volte devo dirlo, che oggi come oggi non ci si sposa più, ci fanno i fatti prematrimoniali, prematrimoniali, cioè il fidanzato e la fidanzata, vanno dal notaio, si mettono seduti e dicono al notaio, notario scrivi, noi due ci mettiamo insieme, noi due ci mettiamo insieme perché ci amiamo, ci amiamo, però siccome sappiamo che l'amore finisce, stabiliamo sin d'ora come saranno le condizioni di quando non ci ameremo più e ci separeremo, perché caro notario, c'è Serafino Massoni, che va dicendo, Urbi e Rodri, che l'amore è quella forza che sposta le montagne, però dopo fa finire il tribunale e noi non ci vogliamo andare in tribunale, per questo notario che siamo qua a fare questi fatti prematrimoniali, capito cari amici, capito cari amici, e qui sta la situazione, ci pensa Serafino Massoni a risolvere le situazioni, fatti prematrimoniali, cari amici, fatti prematrimoniali, Dio che brutto, che brutto, povero attore, grande attore, quanti quattivi che dovrà spendere ora per difendere la sua onorabilità, ok, a tutti e tanti cari saluti da Serafino Massoni.